Circa 200 kg di mariana già pronta per essere messa sul mercato è stata sequestrata dalle forze dell'ordine in soli quattro mesi tra Gela, Mazzalino e Butera. Un mercato, quello dello spaccio di droga particolarmente fiorente che fa gola soprattutto alla criminalità organizzata. E' quanto hanno riferito oggi durante una conferenza stampa gli inquirenti alla presenza del procuratore capo del Tribunale Gelese, Fernando Asaro. Proprio giorni addietro la polizia di Gela, in collaborazione con la squadra mobile di Caltanissetta, ha requisito quasi 70 kg di sostanza stupefacente nelle campagne di Contrada Bulala, dove era stata coltivata e raccolta. Nel corso della stessa operazione gli agenti hanno arrestato in flagranza di reato un agricoltore gelese, Agatino Pasqualino, di 27 anni, con l'accusa di coltivazione, produzione, detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. La scorsa settimana, durante una analoga operazione nella zona di Spino Santa, la polizia aveva sequestrato altri 40 kg della stessa sostanza essiccata e mille piantine coltivate in una serra vicino al pomodoro cileggino. Furono arrestate tre persone, padre e due figli. Nel corso della conferenza stampa abbiamo sottolineato quella che è la particolare attenzione delle forze di polizia ad un controllo costante del territorio, che ha avuto i suoi frutti grazie anche all'ultimo arresto, che ha portato ad un sequestro di ben 70 kg di sostanza stupefacente. Quindi è stato veramente un ottimo risultato e anche una dimostrazione di quello che è il costante impegno di tutte le forze dell'ordine, in questo caso nella squadra mobile di Caltanissetta, del commissariato di Gela e del commissariato di Niscemi, sia nelle forme preventive che nelle forme poi di repressione nella lotta al crimine. Voglio evidenziare la perfetta sinergia che tre uffici di polizia hanno seguito in questo ottimo risultato sotto la supervisione della procura di Gela, nella speranza di riuscire a sviluppare i riscontri ottenuti per cercare di individuare l'esatta piazza di spaccio che sicuramente questa droga avrebbe occupato per tanto tempo e poi rimessa nel mercato, avrebbe fruttato notevoli cifre illecite per i soggetti destinatari dell'attività criminale.